Da noi a Leo Piccolo le prime comunioni non si erano più fatte dalla fine della guerra. I bambini e le bambine che la ricevevano si erano vestiti a festa e le famiglie avevano speso tutti i risparmi per il rinfresco. Non toccare. Hai pensato il corpo di Gesù? Ma non volevo, mi ha fatto inciampare lui. Cari parocchiani, in 26 anni di sacerdozio, il giorno santo delle prime comunioni non è mai stato funestato da un episodio sacrilego di questa gravità. La cerimonia non può che essere sospesa. Grazie. 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 Grazie.